Felice, dobbiamo presentare questo, lo conoscete? Eh, un po'. Cosa vi dice questo libro? Vi dice qualcosa? Beh, è il nostro primo libro. Quanti di voi, ce l'avete tutti ovviamente il libro? Letto? Letto davvero? Ok, sono sinceri, sono sinceri. Sono sicura perché siamo stati inondate di messaggi da tutti loro. Che bello. Che l'hanno letto tutti, l'hanno comprato e l'hanno letto tipo in una notte, in due ore. Loro ridono, ridono Paola. Perché sono parte di loro. Tu sei quella che l'ha letto in due ore? Tu l'hai letto in notte? In quante ore? Tre ore? Circa, è vero. Quindi abbiamo capito che comunque la lettura è di circa tre ore, se ti metti il buzzo buono. Questo ci fa capire che è un libro bellissimo, io lo confermo perché l'ho letto, è anche un libro fotografico, adesso ci arriviamo. E parliamo di Sisters, la nostra storia incredibile, Prevazione di Jonathan Bassi, tra l'altro, edito da Rizzoli. Allora, qui vediamo alcune delle foto, tra l'altro, che troviamo nel libro, giusto? Alcune foto che insomma ripercorrono un po' la timeline appunto della vostra vita. Cosa vi viene in mente se appunto, rivedendo queste foto, che cosa vi viene in mente? Rivedendo anche, rivediamo alcuni scatti bellissimi di, insomma, di voi. È stato emozionante poter raccontare senza neanche tanto decidere la tavolino, perché ci è arrivata questa proposta improvvisa dalla casa editrice e ci siamo dette, ma forse è arrivato il momento, no, di raccontarci un po'. Per esempio, qui dove eravate? Raccontateci un po', da qui la bicicletta. La, con le biciclette, notare le rotelle, la finezza, perché non avevamo ancora imparato ad andare senza. Adesso fa che non vanno più di moda le rotelle. Ah, davvero? No, i bambini spingono queste biciclette con i piedini e poi a un certo punto vanno, e le rotelle non si mettono più. Le rotelle sono generazione X, possiamo dire, non Z. Esatto, la nostra. E lì eravamo dalla nonna, lei abitava in campagna all'epoca, aveva una casolare in campagna, una cascina, e noi quindi vivevamo in campagna, in mezzo agli animali, e lì noi siamo davanti a un pollaio, che era il pollaio di nostra nonna. E noi facevamo questa cosa che, quando avevamo più o meno quell'età lì, andavamo a rubare le uova la mattina, e poi andavamo in una specie di seminterrato e facevamo queste torte di fango e uova. E mia nonna a un certo punto ha iniziato a notare che le uova, queste galline, non le facevano più. Ma tutte e due le facevate, le servate insieme? Sì, ovviamente. Una stava fuori a controllare che il gallo non entrasse, e l'altra entrava dentro e le prendeva. Sì, perché poi il gallo era tremendo, eh. C'era un'organizzazione, un'organizzazione criminale. C'era un'associazione criminale. Di furto di uova alla nonna. Sì, e la nonna diceva, io non capisco a queste galline. Dopo un po' se ne accorta, e basta, e quindi è finito. Ah, giustamente la nonna diceva, queste galline non fanno più le uova. Le uova, lei andava a prendere le uova e le uova non c'erano più. E chi era stato? Paola e Chiara, erano state loro. Quindi, aneddoto in più, il furto di uova. E lì non c'è, tra l'altro. Infatti, quando me lo raccontavano, dicevo, ma non l'ho letta questa cosa. No, infatti. Quindi sono già riuscito... Noi diremmo solo cose che nel libro non ci sono, così la gente andrà a prendere. Giusto. Sono riuscito già a rubarvi un aneddoto. Poi vediamo, c'erano altre foto, per esempio, bellissime di voi al mare. Adesso poi tra poco discorreranno. Di voi al mare con vostra mamma, insomma. Rivedere quelle immagini, cosa significa per voi? Tante emozioni. Quello era il periodo in cui da bambine andavamo in Abruzzo, perché il nostro papà è abruzzese, noi siamo andati a Milano, ma il papà è di Chietiscalo. E quindi per molti anni, fino ai 15, 16, così, anche di più, siamo sempre andate in quei luoghi per l'estate. Quindi ovviamente i ricordi sono tantissimi. E arriviamo a una data chiave, 1997. Cosa vi dice questo anno? Cosa vi dice questo anno? La vittoria di Paola e Chiara a Sanremo, bellissima e meravigliosa. Un anno importante, no? Come arrivate a Sanremo? Perché il vostro sogno era cantare, già da piccolissime, giusto? Il nostro sogno era cantare, poi la musica pian piano ha preso piede. Ovviamente noi, lo diciamo nel libro, arriviamo da una famiglia di persone molto concrete, che non ci hanno mai impedito di inseguire i nostri sogni, perché non ci è mai stato detto no, la musica non potete farla, è troppo difficile. Però volevano sostanzialmente che noi andassimo bene a scuola e prendessimo un diploma. Poi papà ci aveva detto e mamma, anche fate quello che volete. Però era importante che finissimo di studiare, quindi prima di tutto dovevamo portare a casa il diploma. Però la musica è entrata mentre facevamo le superiori e ha iniziato a serpeggiare l'idea di iniziare con delle band a suonare in giro. Quindi abbiamo fatto tanta vita da locali, facendo tanta gavetta nei locali per tanti anni. Dai 16 anni in poi, quando abbiamo iniziato a studiare, verso i 14-15 anni, musica. E da lì in poi abbiamo avuto un sacco di gruppi, band, ci esibivamo dove potevamo. Fino a che nel 1995 Max Pezzali ci ha voluto accanto a sé per fare un tour vero e proprio di un artista pop professionista. E da lì la nostra vita, devo dire, è cambiata. Cioè Max è stato proprio il nostro, si può dire, primo talent scout. Sì, quella è la foto della vittoria di Sanremo. Noi eravamo ovviamente in credule. E tutto questo è accaduto a Milano, la città in cui ovviamente siamo cresciute. Quindi con genitori un po', mamma un po' sognatrice, papà pratico, abbiamo messo insieme queste caratteristiche. Mix. Che è, sì. E loro che atteggiamento avevano nei vostri confronti? Vi supportavano? Vi mettevano in guardia? Che atteggiamento avevate? Un po' è un po'. Sì, sono stati proprio dei genitori, però devo dire che sono stati anche molto avanti, perché ci hanno dato molta fiducia. Probabilmente era una fiducia che in qualche modo ci siamo meritata, perché eravamo sempre molto serie. Questo perché papà ci ha dato una disciplina, lui era un po' in generale a casa, era molto molto severo. Quando eravamo piccoli, adesso si è un po' ammorbidito. Però quando eravamo piccoli era piuttosto severo e sobrio. La mamma invece, come ha detto Chiara, era un pochino più sognatrice. Quindi credo che il mix... Un bel mix, però. ...di loro due sia stato... Anche la mamma era una che voleva risultati. Cioè, era sognatrice, però comunque era anche lei che aveva un senso pratico. E quindi non ci aveva mai ostacolato. E da lì un grande successo. C'è amici come prima, poi la dance, la musica pop. Sì, poi abbiamo anche aperto Michael Giard. Quell'anno lì è stato un anno pazzesco, perché abbiamo aperto i concerti di Mark Owen, di Michael Jackson a San Siro. Sì, è stato un successo in realtà un po' cercato, un po' inaspettato, perché dopo il tour con Max abbiamo pensato appunto di scrivere cose nostre. E poi ci siamo dette, ma perché sarebbe bello provare anche Sanremo. E nel giro di un anno siamo riuscite a trovare un contratto discografico, ad andare a Sanremo a vincerlo. Paola dice, nel giro di un anno cambia tutto. Perché la determinazione e il sogno, quando lavori tanto, poi si concretizzano. Magari ci vuole del tempo, però noi eravamo molto... Se penso a noi allora, eravamo proprio come un missile lanciato. La dura la vince. Eh sì. Sono molto d'accordo. E arriva un grande successo, le grandi hit. Se vi dico, vamos a bailar, festival, solo per dire alcune, blu, oppure, eh, viva l'amore, esatto. Insomma, tantissime hit. Qua abbiamo i suggeritori doc. Loro sono più esperti di noi. Suggeritori doc. Ecco, arriva un successo... Abbiamo scritto tanto. Abbiamo scritto tanto e questo... Ma anche... Devo dire merito, merito anche del lavoro che abbiamo fatto e dell'esperienza che abbiamo condiviso con Max, perché lui era all'epoca già un hit maker grandissimo. e quindi noi, lavorando con lui, facendo le coriste, essendo nella band con lui, guardavamo come lui faceva questo lavoro e quindi ci siamo appassionate alle hit, alle dinamiche, no, che accadevano a Max e quindi anche noi ci siamo messe interessanti perché noi scrivevamo delle hit. E allora... Per questo abbiamo diverse canzoni che poi sono un pochino rimaste nel... No, sono molto rimaste. Cioè, hai ragione, Chiara. Lui è stato proprio anche un'ispirazione costante. Sia nell'atteggiamento, perché Max ha sempre avuto questo atteggiamento molto semplice, un approccio molto... del ragazzo della porta accanto, e però un grande staccanovista, un grande lavoratore, ha sempre scritto la propria musica. Infatti noi per tutta la vita abbiamo scritto le nostre canzoni. Abbiamo creato il nostro mondo musicale, scritto le... Anche se magari non è sempre venuto fuori, non è sempre emerso, che eravamo le autrici delle nostre canzoni. A loro lo sapete. A loro lo sanno. Eh, questa è un'occasione in più per dirlo, assolutamente. Quindi anni di grande successo, poi a un certo punto arriva un altro anno chiave, nella nostra timeline che stiamo ripercorrendo, il 2013. Quando a un certo punto Paola e Chiara appunto decidono di separarsi. Ecco, entrambi dite un po' una cosa, no? Cioè che avete vissuto anche questa separazione in modo diverso. Ci volete raccontare innanzitutto da dove nasce questa separazione? Perché è arrivata a quel punto? Sì, poi non vogliamo neanche spoilerare troppo perché il libro va anche... Fino a dove volete voi. Va anche letto, va anche... Fino a dove volete voi. Fino a dove volete voi. Nel tempo siamo riuscite in qualche modo a metabolizzare il fatto che dopo tanti anni di lavoro a stretto contatto, 24 ore su 24 per 17 anni, ci aveva un po' non impedito. È stato veramente una condivisione di vittorie, sconfitte, tutto quello che è una storia bella ti può raccontare. Però al tempo stesso, siccome abbiamo comunque avuto successo abbastanza giovani, intorno ai 20-23 anni, così stavamo ancora crescendo e quindi noi ci siamo solo concentrate sul lato professionale. Sul lato introspettivo nostro, personale, è stato difficile definire i contorni perché il duo ha preso il sopravvento sulle nostre vite personali ovviamente e quindi a un certo punto entrambe con modi diversi e modalità, perché non siamo la stessa persona ovviamente, abbiamo cercato in qualche modo di trovare noi stesse. È stato ovviamente un percorso che ci ha provocato anche sofferenza, ovviamente, va detto. In tutte le storie, se non c'è anche un culmine di sofferenza, comunque di patimento rispetto alle sfide che affronti, non è una storia che vale la pena di essere raccontata. Ma non voglio...